La storia di ognuno di noi è la somma di tante piccole storie, si annodano l'una con l'altra, si intrecciano e la freccia che viene fuori è la nostra vita. Ma questo succede per tutti, non succede solo per noi, quindi succede pure per persone che vivono a prove, per persone che poi stanno magari peggio di noi e spesso ci incontriamo e tutto funziona se ognuno rispetta e conosce la treccia della vita dell'altro. Questa è l'idea che mi piace ed è il motivo per cui ho accettato di partecipare a questa bella storia, anche questa è una storia nella storia, questa di raccogliere pensieri, scritti, emozioni, voglie di incontro di persone di tutte le età che pensano che è sempre una buona idea, che è un buon investimento conoscere un'altra.